Ciao a tutti cari amici e amiche dello scrigno dei segreti tv, come state? Spero tutto bene. Poco fa vi abbiamo lasciato con un altro interessante video che parla della nuova programmazione per quanto riguarda Daydreamer e le ali del sogno. Infatti la soppopera turca ha cambiato nuovamente orario e giorni per la messa in onda su canale 5. Se te lo sei perso e sei interessato ti invitiamo a guardare anche quel video. Ma andiamo subito al video di oggi. Gli ascolti tv di domenica 22 novembre 2020 sono stati caratterizzati dalla messa in onda della nuova fiction vita in fuga in prima serata su Rai 1 con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. Su canale 5 invece è stata trasmessa una nuova puntata di live non è ladurso. Ad avere la meglio però è stata la nuova serie televisiva proposta dalla Rai che ha vinto la gara degli ascolti serali. Ma per quanto riguarda il daytime che è ciò che interessa a noi invece si conferma la vittoria netta di domenica in che batte purtroppo la soppopera turca Daydreamer di Can Yaman. Domenica in si conferma leader degli ascolti per quanto riguarda il pomeriggio. Il programma condotto da Maravenier ha ottenuto una media di circa 3,4 milioni nella prima parte ottenendo il 17,80 per cento dello share. La seconda parte invece è stata seguita da una media di quasi 3 milioni di spettatori pari al 15,90 per cento dello share. E' davvero preoccupante invece il dato di ascolto per quanto riguarda la serie tv turca Daydreamer le ali del sogno con Can Yaman che nella puntata di ieri è stata vista per una media di soli 2,1 milioni di spettatori pari dunque all'11 per cento 1,74 dello share. Tra le soppopere trasmesse nel pomeriggio di Canale 5 è stata tra quelle che ha ottenuto lo share più basso. Questi erano gli aggiornamenti per quanto riguarda Daydreamer le ali del sogno. Che ne pensi di questi dati? Scrivici la tua giù nei commenti. Iscriviti al canale per restare sempre aggiornato o aggiornata. In più se attivi la campanellina in basso a destra accanto al pulsante iscriviti riceverai una notifica appena pubblicheremo un nuovo video. Ciò ti permetterà di essere tra le prime persone a conoscere le nuove news e anticipazioni sui tuoi programmi preferiti e sui suoi protagonisti.